Buonasera a tutti e a tutte, grazie per essere venuti alla presentazione del libro di Mauro Piani, Traci, Migranti, Vignette, Magestine, Gravina, Antirazzista. Io mi chiamo Aldo Trassi e sono attivo in questo quartiere e oltre ad essere amico di Mauro, particolare che non c'entra niente in questa settimana, sono attivo nel quartiere, sono consigliere municipale, esiste con il giro di libertà e seguo Mauro da diverso tempo per varie modifiche, soprattutto come bigliettista e manifesto, ma poi abbiamo per un periodo poi lavorato insieme per Mamma, che era una rivista di sagri del giornalismo a fumetti, creata insieme a Carlo Capitosa e molti altri autori e questa sera abbiamo deciso di scegliere come prima tappa romana per la presentazione del libro di Mauro, questa giaderia e perfetteria della storia e cosiddetta, perché conosco da tempo Simonetta il suo impegno e questo si appunto da molto tempo, diciamo così per essere abbastanza utilizzando il neofeminismo e perché appunto Simonetta nella sua attività conduce anche lei alla sua battaglia antirazzista. io ovviamente come prima domanda a Mauro, qui abbiamo in questo libro moltissime vignette che sono state poi tra l'altro disegnate, ho visto la prima del 2007, una termina del 2007 su questo tema, quindi sono nove anni almeno fino ad oggi di niente sul tema dei migranti e diciamo qual è la traccia appunto che hai seguito per concorre questo libro? allora, come dicevi il libro è stato fatto in collaborazione con Carlo Capitosa che ha curato la parte giornalistica ed ha poi scelto anche gli argomenti delle infografiche che sono tratte dal dossier statistico sull'immigrazione e poi d'altorella Camicelli che è quella che ha realizzato le infografiche alcune ne ho poi portarli tutti al futuro che ne fai io innanzitutto ho cominciato molto prima nel 2007 cioè dal 2003 al 2004 e tanto da ricostruire un po' anche la storia delle infografiche dell'indicazione dell'indicazione dell'Italia tanto per cominciare infatti qui ci sono 130 vignette, 140 vignette che sono state solamente selezionate per il libro ma in realtà ne ho fatte almeno 500 sull'argomento perché questo interesse? l'interesse nasce innanzitutto dal capire le ragioni e quindi pure come anche ha scritto un po' alla prefazione gli interventi iniziali pur partendo da situazioni molto difficili anche da tragedie e anche dalla rappresentazione di alcune tragedie di successe del monte eppure è un libro sulla speranza perché quello che fa un povere le persone da sempre nel mondo è proprio quella la ricerca di un posto dove poter abitare in pace per esempio dove poter stare in pace con la propria famiglia, con i propri affetti, con un lavoro e questo non è una qualità diciamo il mondo da sempre è fatto di migrazioni anzi il mondo attuale, quello che adesso conosciamo è il frutto delle migrazioni che ci sono state sia in Europa che nel resto del mondo quindi, come dire, è un movimento naturale in realtà l'interesse nasce proprio da questo poi naturalmente a queste sono attaccate nel corso degli anni anche le reazioni che spesso ci sono state diciamo, nelle migrazioni e noi abbiamo suddiviso il libro in sé in un paragrafo più o meno e uno va bene sull'Europa, sulla frontezza Europa eccetera ma ce n'è uno anche appunto sull'Italia e su quelle che sono state poi un po' il quello che è stato il percorso anche legislativo in Italia partendo non solo dai dati reali purtroppo anche dai pregiudizi una delle ultime cose, diciamo, in cui si è discusso molto è stata la legge sul reato di tantestilità che poi a proposito dei due giudizi si è arenato dopo i fatti di Colonia non so se ne ha seguito perché abbiamo coinvolto anche l'IDOS questa volta? cioè perché non è solamente un libro di niente? perché ci sembrava importante dare anche, diciamo, una base appunto di realtà, no? e di statistica per combattere il pregiudizio quindi non basta solamente, come dire, l'opinione o anche la battuta, la vignetta in questo caso ma servono anche delle pezze da fuori per le statistiche e il mezzo migliore sicuramente da tanti anni è proprio questo dossier statistico in questo momento non ce l'ho qui ma che alla fine è un liberone così alto che viene stampato, che è tutto come il chionda che è il presidente di Colonia in 12.000 copie purtroppo queste 12.000 copie non si sa bene dove finiscano, glielo ho detto io perché se almeno una piccolissima parte di questi dati fossero discussi in televisione nei giornali, gli organi di informazione in maniera seria probabilmente molti dei pregiudizi cadrebbero molti dei pregiudizi su cui poi si basano una serie di traduzioni di esibili una serie di inchieste anche, diciamo, giornalistiche eccetera ecco, questa è una presentazione un po' generale per noi dunque, diciamo che è sempre un esempio può essere difficile fare un commento, sì non sono venuto in niente perché questo mi arriva anche buono ecco, io per esempio ho notato una cosa, cioè una differenza di stile all'interno dello stesso tema mi spiego meglio ho ricordato un'ambienta di cui non mi ricordavo che era quella del balcone con EUROSCEPIC questa qui, diciamo, strappa un sorriso però poi ce ne sono magari delle altre ora non so se sta anche nella cartella che hai preparato però c'è un'altra in cui c'è una giornalista che rispetto al tema degli sbarchi chiede un commento e rivolge il microfono verso l'acqua e diciamo che quella è una vignetta che a differenza di questa qui lascia invece un sentimento più amaro quindi, diciamo che rispetto a questo tema ci sono diversi approcci come li gestisci ogni volta? questa è una domanda inutile no, nel senso che è chiaro che la satira è fatta appunto di molti momenti anche stili e direzze nel senso che la satira non è mai un genere, come dire, unico edificabile in maniera standard per cui c'è un momento in cui è possibile attirare naturalmente, diciamo, il fine ultimo è quello comunque di attirare l'attenzione sul tema e cercare di dare, intanto il luogo comune cercare di dare un punto di vista differente questo punto di vista differente può essere dato sia appunto da un atteggiamento tra virgolette un po' più tragico sia appunto da momenti grotteschi perché quello più che, come dire, sia strappo appunto di solito gli atteggiamenti però ecco, appunto, è un'immagine grottesca è una delle immagini, anzi, ce ne sono altre ben peggiori questa è l'amministrazione, cioè la ricerca di come dire, di puntare l'attenzione sul fatto che molte delle battaglie pure che... naturalmente niente non si spiega no, no, no però, vabbè, è facilmente comprensibile molte delle battaglie del passato per cui tanti, insomma, sono spesi anche probabilmente adesso fanno parte in fondo un po' come la copertina del libro, no? cioè, che chi è che non ama Mandela? perché Mandela ormai è diventato un'icona quando uno diventa un'icona come Gramsci, come Gekevara, come tante altre icone Falcone e Borsellino si depotenzia il messaggio cioè l'icona depotenzia il messaggio la sagra, se può nel mio caso, per esempio cerca di recuperare il messaggio rendendo appunto differente l'icona quindi lavorando sull'icona in questo caso, per esempio appunto Mandela che guarda dalla finestra delle sue scarcere la fotografia vera che tutti conoscerete o quasi tutti, insomma e in questo caso vede appunto il barbone di migliori cioè il messaggio è c'è una nuova part-ride? no? si c'è una nuova part-ride per me e poi non è neanche tanto nuova per esempio anche questa è una nuova part-ride per me è assolutamente benissimo insomma penso che lo scambione si no non è la posta c'è ancora più altra parte ma io io cioè penso questa ad esempio anche questa diciamo è una piccola ma è vero molto prima della Messina e questa è stata fatta il momento in cui in un CIE c'è stato un gruppo di migranti di Ponte Galeria, per le proteste si erano usciti da bocca letteralmente, il periodo che è stata fatta era sottonatale, quindi mi sembrava un'immagine insomma estremetiva. Io vorrei fare un attimo una domanda sullo strumento che ha utilizzato proprio al futuro di questo libro, che anche questo secondo me è un segnale ma è anche una qualità che mi fa chiedere, ma come mai un libro del genere per essere pubblicato si decide la strada del crowdfunding e magari perché non ha trovato un editore disposto a spenderci su questo tema in questa maniera, non c'è un libro di vignette che comunque è differente rispetto ai numeri dei fumetti che in questo momento hanno di nuovo preso piedi, di nuovo in un genere che ormai è diventato assai popolare, che comunque è un, oltre a essere una raccolta di vignette e illustrazioni, che poi secondo me anche illustrazioni nel termine più adatto, comunque anche all'interno è una parte in cui si informa, in cui c'è le infografie e quella della Carlo e che quindi insomma cerca anche un po' di mettere ordine in quella, rispetto a un marasma di informazioni che ogni giorno ci viene dato rispetto a questo tema. Quindi come è nato il progetto dal punto di vista tecnico oltre che diciamo artistico? Allora, in realtà è stata una scelta, cioè noi con Altra Informazione, che è un'associazione culturale nata qualche tempo, ma da 2009, abbiamo scelto di pubblicare una serie di libri, quindi ci sono due miei, ma poi ci sono anche molti altri, altri artisti, altri grafici novel, soprattutto per dare anche un segnale di vitalità alle teorie, cioè nel senso riuscire appunto, attraverso il profonding ad esempio a far capire che le teorie dal basso, questo pronuncio appellativo, che ormai va anche di moda e che in realtà è possibile. Noi quando abbiamo lanciato questo progetto era prevista diciamo un'attesa di un paio di mesi per capire se si fosse potuto fare quindi se era possibile andare in stampa, che in realtà dopo due settimane avranno già la possibilità di stamparlo perché ci sono stati più di 500 connotazioni, che era insomma il punto di pareggio diciamo ecco. Inoltre pensiamo che gli autori devono essere pagati, questa è anche un'altra... e siccome ormai veramente, specialmente per fare libri di questo tipo, c'è una forza di passo pensiamo che attraverso, pensiamo e realizziamo che attraverso invece una ricerca appunto di finanziamento dal basso si possa anche ottenere questa cosa, cioè che tutti gli autori, come è successo in effetti, sono stati pagati non solo abbiamo stampati lì ma anche c'è stato un compenso equo naturalmente non ci si arricchisce, questo è parologico, ma non ci si arricchisce neanche se si pubblica con grandi diciamo dei più grandi o meno grandi editori comunque, ecco, ormai a meno che sei un nome di grandissimo richiamo insomma quindi è una scelta, ecco l'altra informazione è stata una scelta tra l'altro, come penso quasi tutti saprete, il manifesto poi vedendo il progetto del libro c'è stata anche questa, diciamo, soddisfazione, teniamola così, questa cosa è importante ha sposato, diciamo, prima ancora che economicamente e politicamente, no? Cioè, lo scritto del progetto ha visto insomma finito, non l'ha visto stampato, non l'ha visto, diciamo, il libro finito e quindi ha deciso di stamparne comunque 20 mila copie, quindi in realtà questo libro ha avuto oltre la diffusione in crowdfunding e quella che sta ancora avendo, che avrà aspettato, insomma, ancora per molto anche, diciamo, la diffusione attraverso l'edicola, che è stata una cosa che mi dicono perché io non c'ho dati reali ancora, perché non c'è nessuna, senza che purtroppo sono cose un po' lunghe, mi dicono che è andata molto bene comunque, che è difficile trovarli in edicola che non c'è insomma, io ho vendato reali dell'edicola vicino a casa due copie, tutte e due, con un numero ecco, magari avrò due copie dell'edicola, però una copia dell'edicola le edicole in Italia sono circa 25 mila, infatti 20 mila sembra tanto in realtà, appunto, se dovevamo coprire tutte le edicola non c'era neanche una edicola quindi è chiaro che magari qualche edicola non è andato, poi vabbè, ma di questo c'è una distribuzione che non arriva nelle isole per cui purtroppo Sardegna e Sicilia, anche se poi, appunto, molti sardi e molti siciliani l'hanno preso attraverso, appunto, il profondo di distribuzione del Stato oppure anche attraverso il sito del manifesto, perché in questo sito del manifesto c'è un'edizione c'è quella che sta un po' del manifesto che è praticamente quasi identica a questa in questa situazione mancano forse 3-4 di niente e leggermente più piccola di economica però, ecco, è arrivato, insomma, anche dove si credeva un po' di salivare dunque, io voglio dire, non solo queste tre domande, sono le uniche domande che si potrebbero fare di fronte a un progetto così, insomma, così vasto e così ampio c'è comunque la parola a qualcuno del pubblico che ha voglia di intervenire in mente di fare questa storia umana che a volte è dimenticato perché all'inizio faceva tanto pubblico, la gente guardava gli ultimi tempi che morre 10, 20 o 30 o nessuno non fa più caldure anche perché oggi è una domanda, ma un pesce che uno mangia del Mediterraneo, del mare dove, diciamo, perde la vita a queste persone è il pesce o qualche cuore di qualche bambino o anche il cervello di qualche mamma che sognava di studiare il suo figlio che sognava di una vita migliore e invece si è andato a finire nel bocca di un pesce o quello di un uomo che mi sa? una bella rima uno sguardo allora io mi domando la sua sensibilità su questo io penso che questo libro forse è un libro che induce le persone a leggerlo perché non è soltanto diciamo parole su parole frase su frase ma lì c'è qualcosa che colpisce perché c'è il disegno c'è il significato che non ti appesantisce a leggerlo perché basta soltanto vederlo per capire a volte anche il gesto parla da solo nel vigneto non c'è problema anche delle scritture ma parla anche da solo mi dico complimenti per questo lavoro che lei ha fatto che veramente a me mi ha toccato spero che avranno un bel successo perché a volte ogni giorno si presenta il libro pesante che lei legge altre frasi poi si è stabile invece a questa c'è la curiosità di arrivare alla fine e perché le rivive anche nel quotidiano le rivive nelle croniche ogni giorno queste immagini che lei ha voluto scrivere anche di mostrarlo con tanto grazie 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 c'è poco da dire c'è anche io penso che a parte che mi piacciono moltissimo i tuoi disegni che ho già conosco dal manifesto sì spero che oltre ad avere successo che magari possa scuotere qualche coscienza anche se però ci si ci si prova io invece spero che con questo linguaggio arrivino a un pubblico più giovane perché è importante che da lì si parti per il cambiamento e siccome spesso il libro si vede la copertina, si vede la guardia e poi non sempre si apre arrivare con un messaggio del genere forse a livello sì grazie innanzitutto beh sì assolutamente cioè quello che diciamo se non dovrebbe fare anche un po' la salia in tutti i casi la fa anche in maniere differenti forse se è salia almeno come intendo io è quello di dividere innanzitutto l'umanità dalla disumanità no? cioè c'è un appunto c'è chi diceva che rimaniamo ma restiamo umani in realtà l'umanità la disumanità fa parte anche dell'umanità cioè ognuno di noi ha una possibilità appunto di avere una sensibilità umana e nello stesso tempo anche di essere disumano il la situazione e l'attitudine a determinate notizie che poi diventano sempre più basse se uno legge un page dei giornali no? se undici morti cinque bambini venticinque trenta fa parte di quel crescita della disumanità no? un po' forse normale tra virgolette nel senso chi sta sotto una guerra come dire difficilmente riesce poi alla fine dopo mesi e anni di guerra verso la Siria contagi tutti morti no? però è importante non dimenticare appunto recuperare no? per me è importante e può dire che io ho trovato per esempio nel manifesto da questo punto di vista l'attenzione in cui sono contento insomma anche nel periodo per dire io ho lavorato tanto con Liberazione ecco una peccolunità ho fatto molti anni fa qualche anno fa ho fatto 20 anni qualcosa comunque anche nel periodo in cui Berlusconi diciamo era sempre il bersaglio principale della Sardina diciamo ho trovato sempre la possibilità attraverso i giornali in cui ho lavorato di poter invece bypassare alcune notizie quindi prendermi questo privilegio me l'hanno poi concesso per fortuna di bypassare abbastanza diciamo la notizia mainstream cioè quella che viene un po' in mediana no? che politica in mediana per potermi appunto occupare di quello che mi interessava a me principalmente e e un certo tipo di atteggiamento umanamente parlando l'ho sempre ritenuto incomprensibile cioè come si fa a non avere compassione nel senso proprio latino del termine no? compatire di fronte a determinate notizie cioè chi è che partirebbe col barbone o col canotto ma chi? io no a meno che non fossi così diciamo motivato da varie questioni economiche guerre eccetera la dovesse scappare a fuggire quindi capisco che è un problema come dire di anche di come dicevo prima anche di informazione tra l'altro perché per esempio pensare che adesso vi dico alcuni dati visto che pensare che in Europa c'è uno 0,3 dell'immigrazione mondiale che noi pensiamo sia un'invasione perché ce la presentano come un'invasione quando in adesso io dico il Libano vabbè perché è abbastanza diciamo particolare ma in Libano c'è più del 40% dell'immigrazione cioè come popolazione quelli del 40% sono immigrati per non parlare di tutte le nazioni che stanno vicine per esempio alla nazione in guerra la Turchia per esempio rispetto alla Siria ma anche all'interno della Siria stessa cioè immigrazioni come dire prima di tutto cominciano da luoghi se io se a Roma c'è la guerra io scappo magari a Napoli quindi questo per dire che probabilmente uno dovrebbe ecco attraverso un'informazione corretta perlomeno uno dovrebbe innanzitutto ridimensionare ecco il fenomeno e capire come dire le dimensioni e poi non come dire solamente un'altra cosa che mi sorprendeva anche se so che stiamo in una società di immagini come si diceva prima il fatto del bambino che è rimasto famoso no? ma quanti bambini erano morti prima e quanti ne sono morti dopo e anche quello purtroppo è diventato un'icona vuota se non è supportata da un'informazione giusta da una politica naturalmente dalla politica perché la politica ha una grossa responsabilità d'altronde è il suo compito non è che per dare come dire non per buttare addosso diciamo la croce a qualcuno ma in realtà è il suo compito il suo compito sarebbe non solo quello di andare dietro la pancia delle persone ma quello anche di far capire veramente la situazione qual è ed essere razionali per lo meno e poi tra l'altro se non riguarda domande tu quel tempo fa hai anche adesito una mostra alla Perusa? che è vignetta sì e che hai anche mi immagino presentato che sei stato lì giù alla Perusa ma non si sa no ho fatto una mostra all'interno di un festival che fanno la Perusa tra l'altro c'è qui c'è una bellissima cosa scritta da Giussi Nicolini che è il sindaco di la Perusa ti ho ringraziato veramente da morire eh perché si capisce da quello che si legge che veramente insomma lei vive giornalmente il fenomeno insomma la questione che lo vive ecco in maniera col cuore e col cervello e e con un'associazione che si chiama La Scavusa che è fatta la cittadina a Petusani eh mi hanno chiesto mi hanno chiesto di poter insieme a Giampiero Caldarella che insomma è siciliano di Palermo ma che collabora con loro e che è stato anche direttore di un giornale molto bello che si fa un altro dato che mi veniva in mente e che era riportato dall'IDOS era il fatto appunto dei musulmani no? e c'era una domanda allora innanzitutto l'IDOS non fa delle ricerche specifiche lei come associazione ma prende eh è molto come dire istituzionale perché prende comunque da Eurostat dall'Istat cioè da tutti quei centri di ricerca che sono riconosciuti eh dagli organismi statuali e extra statuali però insomma diciamo in maniera ufficiale quindi non si inventa niente ma proprio ricerca e c'era una ricerca in cui si domandava agli italiani quanti musulmani secondo loro c'erano in Italia qual era la percentuale allora gli italiani rispondevano il 20% della popolazione della popolazione infatti sono rimasto un po' non ci credo non ci credo non credo neanche alla non so come è stata domandata in realtà sono il 3% e questa qui è l'invasione musulmane in Italia allora che cos'è che ci deve far preoccupare è che molte delle cose che abbiamo vissuto nella storia molti dei momenti anche repressivi dittatoriali nascono dall'ignoranza nascono dal pregiudizio nascono dalla ecco dalla diffusione di notizie false e quindi dalla paura dalla paura della popolazione della popolazione ritornare ai numeri veri è un inizio anche lì per esempio ecco anche lì andrebbe forse si era parlato con l'idos di fare anche qualcosa insieme per lo meno un estratto nel senso che anche lì la vignetta l'immagine attira di più che se tu scrivi comunque sia un librone così grande che anche magari pochi fogli però non illustrati ma anche delle infografiche tradotte ormai molti lavorano così quasi infatti a proposito dei numeri c'è un'infografica all'interno del libro dedicata ad esempio si intitola se questo è un rom e anche qui io sono rimasto colpito dai numeri che vengono citati in questa infografica perché dice in Europa l'Italia ha una delle percentuali più bassi di rom che è lo 0,25% sul totale della popolazione residente e su 180 mila rom e siti residenti del nostro paese soltanto 40 mila vivono in insediamenti formali e informali che sono i campi che corrispondono allo 0,06% della popolazione italiana anche questi sono dati dato che poi la questione è molto sentita anche in questo territorio perché comunque i campi molto spesso vengono sistemati nelle zone più periferiche della città e forse non è il caso purtroppo mi ha molto colpito leggere questi dati perché si dà un risalto a certe notizie che riguardano queste tematiche in maniera direi quasi ossessiva e tendente a rinunfiare il caso per cui anche cercare di mettere ordine a tutto questo citando i numeri e sui numeri c'è poco da dire meno che non siamo numeri falsi credo sia comunque anche una missione importante che in fondo questo libro si dà e ho fatto di questo libro non solo una raccolta di illustrazioni ma anche un documento di inchiesta un tipo di inchiesta su questo libro un documento grafico si è vero io credo che abbiamo detto abbastanza soprattutto sul libro non voglio dichiarare Mauro Ofte e anche voi ovviamente io ringrazio comunque quelli che hanno partecipato e anche la giateria e la caffetteria e la città che ci ha ospitati grazie 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 a Roma sicuro ci sarà una prossima presentazione che si terrà il 26 febbraio alle ore 21 e 30 presso l'ufficina culturale Via Libero al quadrato che si trova in via dei flui 25 e a dialogare con Mauro, diciamo così, ci sarà marica di piedi della situazione assurda. Grazie a tutti.